Secondo lei è possibile parlare di emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale alla luce della riunione che è in queste ore? Questa dizione, esattamente per come lei l'ha pronunciata, non è un'opinione di un ministro. È una deliberazione che fa l'OMS nel suo organismo competente che esattamente in queste ore si sta riunendo. L'esito di questa riunione sarà importante perché a seguito dell'esito di questa riunione dovremo agire di conseguenza. Noi siamo in collegamento permanente con tutte queste istituzioni internazionali e faremo tutto ciò che è necessario, come d'altronde abbiamo già iniziato a fare. Come possiamo originare il focolaio? Quando si dice faremo tutto il possibile, cosa possiamo fare d'altro? Noi in Italia siamo stati il primo paese a costruire questa metodologia dello scanner, entry scanner, quindi degli scanner che sostanzialmente riconoscono la temperatura del corpo delle persone all'ingresso. Quello che sta facendo il governo cinese mi pare rilevante in queste ore perché il principale focolaio è in Cina, a Wuhan. Il governo cinese da stamattina alle 10, orario italiano, ha bloccato tutti i mezzi di comunicazione e di trasporto in quella città. Mi pare che il governo cinese stia facendo quello che è nelle sue possibilità. La comunità internazionale è allertata. È un momento in cui c'è bisogno del massimo coordinamento tra tutte le istituzioni internazionali. Grazie. Grazie. Grazie a voi.